Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Mai come quest'anno il grande fratello non riesce a trovare una sua collocazione stabile nel palinsesto dell'ammiraglia del Biscione. Partito a settembre col doppio appuntamento lunedì giovedì, il reality di casa in The Mall da inizio dicembre ha visto slittare la seconda puntata settimanale al sabato sera. Con addio al giovedì, ma adesso è in arrivo un'ulteriore novità. Dalla prossima settimana, infatti, Alfonso Signorini e i suoi inquilini diranno addio alla doppia uscita settimanale, perdendo lo slot del lunedì, e terranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 soltanto la sera del sabato, almeno fino all'inizio del nuovo anno. Lo ha svelato sui social l'opinionista Rebecca Staffelli. Mediaset non ha motivato tale scelta, pare che la spiegazione sia legata alla messa in di Io Canto Generation di Jerry Scotty. Presenza fissa nel mercoledì sera di Canale 5, il talent musicale dedicato ai bimbi, giunto alla semifinale, era in cartello per giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì sera al match di Coppa Italia tra Inter e Bologna. I vertici Mediaset, però, avrebbero cambiato idea e ora sono orientati a cambiare ad anticipare la semifinale di Io Canto. Probabilmente per evitare la sfida ostica con l'ultima puntata del Professore 2 su Rai 1. Quindi Jerry Scotty e la sua truppa di bimbi canterini dovrebbero slittare in anticipo al 18 dicembre. Tutto ciò sempre al netto di possibili nuovi ripensamenti che dalle parti di Mediaset sono praticamente all'ordine del giorno. Nel suo intervento social, la Staffelli ha anche snocciolato il calendario delle prossime puntate del Grande Fratello. Il reality sarà in onda sabato 16 e sabato 23 dicembre. Oltre alla puntata del 18 dicembre salterà anche quella del lunedì successivo, giorno di Natale.